Amici del Portapenne, ben ritrovati per un altro appuntamento nel nostro ideale viaggio tra quelli che sono gli strumenti di scrittura che non solo adornano ma rendono il nostro scrittoio un momento per rilassarci, per creare, per divertirci anche con i più vari strumenti di scrittura, supporti per la scrittura, inchiostri e tutto quello che gira intorno alla scrivania, lo scrittoio inteso come non tanto e solo mobile di una nostra stanza ma come luogo in cui ci ritroviamo noi che abbiamo questa bella passione. Oggi, come avrete intuito, in primo piano avete questa indicazione che non ammette molte repliche, torneremo a parlare di matite, di una matita meccanica in particolare, chi segue il canale dall'inizio sa che io sono partito proprio con un video con una panoramica di matite meccaniche e di portamine cercando anche di, se possibile, definire una distinzione tra la definizione di portamine e di matita meccanica, per quanto siano ormai chiaramente dei sinonimi. Voglio tornare dunque alle origini parlandovi di un prodotto giapponese, lo intuirete sicuramente guardando la confezione ma poi ve la farò vedere ancora meglio. Vedete che l'ho dovuta, ho dovuto mettere due mollette qui all'estremità. Allora di che cosa andiamo a parlare? Qual è questo marchio di cui ci occupiamo oggi? Il prodotto è della Kitaboshi Pencil Company giapponese. Si occupa praticamente esclusivamente di matite meccaniche, portamine, mine, tutto quello che gira intorno a questo ambito, quindi non penne, non stilografiche. È un'azienda giapponese specializzata in matite meccaniche. Che cosa ha di particolare questa matita meccanica? Perché dal mio punto di vista è un oggetto che vale la pena, perché ha la passione di essere preso in serie a considerazione. Allora, una volta, intanto parliamo del packaging, che già questo la rende abbastanza piuttosto originale. Una volta rimossa il sacchettino di plastica che avvolge questo cartone, guardate che cosa succede. Io tolgo queste due mollette di fortuna che ho voluto applicare proprio per ricreare un po' l'unboxing di questo oggetto. E si apre questo pieghevole. Tutto, ovviamente, tutto scritto in giapponese. Non ci si scappa, insomma, il prodotto giapponese e vogliono essere sicuri che la cosa non sfuga. Io non so una parola e neanche ho voluto cercare traduzioni a questo papello scritto in giapponese. Anzi, penso di averlo messo anche al contrario. Sì, no, era giusto prima. Insomma, giratelo come vi pare. Se non conoscete il giapponese vi cambierà poco. Mentre se c'è qualcuno, qualche amico che conosce questa lingua, mi scuserà per la bassa ironia, che non vuole certo mancare di rispetto a questo popolo che anche e soprattutto al nostro mondo, nel nostro ambito, ha dato e sta dando moltissimo. Questa è una matita meccanica. Vedremo perché, nonostante la mina da due millimetri, la si definisce matita meccanica, piuttosto che più genericamente porta mine. Nella confezione c'è appunto l'alloggiamento per questo oggettino, che apparentemente potrebbe sembrare un portamine di quelle piccole 050709. In realtà questo è un temperamine. Dopo vedremo quanto è funzionale, ma l'avrete già intuito. Questo qui è un temperamine. Poi vedremo come funziona e capirete anche perché è molto pratico averlo. Allora, dicevamo di questo marchio, Kitaboshi Pencil Company. Ovviamente questa matita meccanica viene prodotta in varie essenze. Questa qui ha un corpo in legno ovviamente esagonale, come le matite tradizionali, ed è prodotta in cedro americano, quindi è piuttosto chiara, con qualche venatura più scura, ma cedro americano. È molto bello perché dal mio punto di vista è un paletto della tecnologia analogica in un mondo digitale. Quindi diciamo che questo è uno strumento, come tanti altri, ma in particolare secondo me questo, che vuol dire che la tecnologia analogica ha ancora qualcosa di bello da esprimere, anche in oggetti apparentemente molto semplici, come può essere questa matita meccanica. Allora, intanto all'interno contiene una mina da 2 mm, ve la faccio vedere, premendo adesso allarco il campo perché voglio parlarvi subito della caratteristica principale, del vantaggio principale di questa matita meccanica. Come vedete stiamo parlando di una mina da 2 mm, metri, il tipo di durezza è 1b, quindi è un ottimo compromesso tra chi con questa matita scrive, prende appunti, non so, compila la siteniana enigmistica o il sudoku, e invece chi ci vuole disegnare. Ovviamente Kitaboshi produce e diffonde anche, distribuisce anche altre durezze di mina, penso sia comunque compatibile con altre mine 2 mm, quindi non credo che dobbiate per forza acquistare le mine Kitaboshi. Io non ho ancora avuto questo tipo di problema. Ma torniamo a noi, qui, stringo il campo perché desidero veramente farvi comprendere che questa matita, matita meccanica, è davvero unica, si può dire nel suo genere. Perché? Torniamo a matita chiusa. Normalmente il portamine ha questa funzione, anzi, già che ne ho pochi, prendiamo una normalissima portamine 2 mm, in questo caso una Kovinur, la 5009, una matita molto diffusa, un must, allora noi andiamo a premere sulla cappuccio ed esce in maniera incontrollata la mina. Tant'è vero che noi ci andiamo a regolare puntandoci magari sul foglio, sul supporto, per quanta mina vogliamo far uscire. Questo è il normale comportamento di un portamine. Quindi il tasto apre la strada alla mina che poi scivola giù. Cosa avviene, o cosa non avviene, meglio, nella nostra bella Kitaboshi, bella ed essenziale? Che questa mina 2 mm sostanzialmente si comporta come un portamine che potrebbe essere con una mina da 0,5, le micromine, da 0,3, da 0,2, da 0,7. Ovvero ad ogni pressione sul tasto sommitale c'è una fuoriuscita di mina. Sentite il tic? Quindi non è a uscita libera. Ecco perché è corretto chiamarla matita meccanica. Perché ha un dispositivo all'interno che funziona esattamente come quelli delle matite meccaniche che utilizzano le micromine. Quindi abbiamo un bel vantaggio perché se una persona è seduta sul divano comodamente con il suo albo di sudoku o di enigmistica e sta scrivendo da sotto in su, come spesso avviene, non è costretto a girare la matita in giù per far uscire e fermare la mina. Può tranquillamente continuare a scrivere e farla uscire in verticale grazie a questo dispositivo. Può sembrare una sciocchezza ma fa tutta la differenza di questo mondo. Dicevamo è una matita essenziale, dimensioni di una matita normale, è esagonale quindi va molto bene per chi dovendo disegnare ha la necessità di tanto in tanto di ruotare un tratto della punta per non farla appiattire troppo. Posto che, come dicevamo, in dotazione c'è questo bellissimo ed efficientissimo temperamine. Io ora faccio uscire abbastanza la mina per potervi far vedere il più possibile, meglio possibile, il funzionamento. Quindi inizio a girare, è vero che qui abbiamo già una punta affilata però la filiamo ancora di più. Vedete che va a depositarsi lì, poi scende e sicuramente non va a sporcare né la nostra mano, né la nostra scrivania, lo scrittoio, nella carta che abbiamo sotto. Se lo vogliamo mettere in tasca e siamo in viaggio, la mina rimane ben sigillata all'interno. Quindi per il prezzo che viene offerto è un ottimo accessorio. C'è poco altro da aggiungere. Vi svito la parte cuspide finale, così vedete appunto che la meccanica interna nella parte finale è in ottone, come si raccomanda nelle migliori matite meccaniche. Il tappo metallico non rivela la gomma sotto, non ne dispone, ma c'è il semplice accesso per la mina di ricambio. Punto, molto semplice, molto essenziale. Come scrive? Ma scrive bene. Inutile star qui a girarci intorno. Adesso ha una punta sottilissima, questa punta, anzi preferisco, visto che parliamo di un prodotto giapponese, darci un minimo di tocco coerente con questo diciamo giornale da viaggio, diario da viaggio, che non è giapponese ma in stile giapponese, prodotto da Coconote, anzi sì Coconote, che è un'azienda che fa degli ottimi prodotti con un rapporto qualità prezzo eccezionale, è un'azienda spagnola. In questo caso il diario di viaggio viene prodotto con la copertina del grande Okusai, cioè la grande onda di Okusai, quindi diciamo un soggetto tipicamente della della pittura tradizionale giapponese. Dicevamo come come scrive la nostra matita, che è la kitaboshi. Allora andiamo andiamo un attimino a restringere il campo e scriviamo, vedete era talmente appuntita che è partito il primo tratto al primo tocco. Matita meccanica kitaboshi linetta boshi sto scrivendo un po' piatto per avere un tratto più leggibile in video, visto che adesso non stiamo parlando parlando di un video di bassa qualità, ecco sapete che qui di grandi pretesi non ne abbiamo se non quelle di poter parlare in libertà delle cose che ci piacciono. Vi ricordo che questo canale è il portapenne, grazie a tutti quelli che stanno seguendo e che commentano, mettono like, condividono i contenuti su pagine o altri canali YouTube, la cosa è gravita perché farsi conoscere aumenta la visibilità e questa è una cosa che ci gratifica. fermo restando che qui nessuno cerca niente se non appunto il piacere puro della condivisione. dicevamo che la mina in dotazione in una sola è una 2 mm gradazione durezza 1b quindi la vedete è bella scura va bene anche per sfumare poi potete cambiare ovviamente come vi pare la mina naturalmente. ultimo dettaglio da segnalare questo è un prodotto talmente originale che nel 2011 è stato eletto in Giappone cancelleria dell'anno quindi un prodotto premiato ripeto non è un prodotto nuovo perché appunto ormai ha quasi 15 anni ma è sicuramente un prodotto che ha dato qualcosa è leggera è pratica va bene sia per disegnare che per scrivere. a questo dispositivo di avanzamento della punta che la fa somigliare molto ad una matita meccanica con micromine pur avendo una matita una mina generosa come quella da 2 mm. il prezzo dipende come la comprate dove la comprate si tendrà a cogliere le occasioni ma tra i 10 e 15 euro compresa sempre la dotazione del temperamine kitaboshi originale. spero abbiate trovato interessante questo piccolo questa divagazione su questa matita meccanica penso che possiate anche prenderla in considerazione perché davvero è carina molto essenziale si differenzia da quelle più moderne perché ripeto è una matita classica con un pulsante di metallo e una cuspide finale di metallo. per il resto è veramente leggera come una matita funziona veramente bene è un prodotto originale e non inflazionato ad un prezzo credo davvero accessibile questi sono i miei punti di vista se ne avete altri diversi volete esprimervi sull'argomento i vostri commenti saranno sicuramente graditi. vi ringrazio per l'attenzione con quello con la quale seguite il portapenne e vi rimando al prossimo video ciao amici ragazzi 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 ung